Il farmaco che potrebbe diminuire la sofferenza del piccolo Nicolò, 14 mesi appena, nato con una diagnosi prenatale di idrocefalo e con la sindrome di Dandy-Walker, è prodotto unicamente negli Stati Uniti ed è purtroppo sempre più raro. A lanciare l'appello è la sua tenace e coraggiosa mamma, Federica Di Taviano, che anche oggi, raggiunta al telefono e insieme al piccolo, al gemelli di Roma. Il suo bambino ha già subito 19 interventi, subirà il ventesimo nelle prossime ore, mentre per la prossima settimana è già programmato il ventunesimo. Federica chiede aiuto. Il farmaco che oggi può dare speranza e sollievo è prodotto solo da una piccola casa farmaceutica che si trova in Canada, ma oggi, a quanto pare, la produzione sta scarseggiando anche lì in America e dovrebbe riprendere solo in autunno. Al bimbo è stata concessa dall'AIFA un'approvazione per uso compassionevole, un'approvazione ottenuta nel settembre 2022, dopo la quale la famiglia di Nicolò è riuscita ad avere solo 14 flaconi in due tranche, poi nulla più. Per questo motivo sono tornate necessarie le trasfusioni di plasma al gemelli di Roma e che oggi vengono effettuate per tre volte a settimana a Lecce. La richiesta di Federica è quella di trovare una soluzione che possa essere quella di avviare un trial clinico europeo per consentire la reperibilità del farmaco anche in Europa o eventualmente farlo produrre dallo stabilimento chimico farmaceutico militare nell'unica speranza che si sblocchi la situazione. Un farmaco salva vita non può non essere nella loro disponibilità. Qualcuno deve intervenire e deve farlo subito.